. Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 6 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Lunedì di riflessione, con il gatto sulla pancia. Amanti della natura e degli animali, anche se decidete di stare in casa vi coccolate i vostri quattro zampe con tenerezza, bello rilassarsi, leggere o semplicemente riflettere con micio sulle ginocchia, che accompagna il lavorio mentale con le sue fusa, o snopi accucciato ai piedi, bravissimo a scaldarveli con il suo tepore. Anche oggi la luna in sesta casa vi vorrebbe all'opera sul fronte professionale, o almeno impegnati a organizzare l'agenda o a concludere un progetto troncato a metà, ma la vita non è fatta di soli doveri, lo spirito reclama la sua parte. Una corsa nelle praterie dell'immaginario o una lunga chiacchierata a tu per tu con se stesso, e come scrisse Ginsberg, padre della Beat Generation, il tuo guru è il tuo cuore. C'è molta disonestà e ambiguità intorno a voi, qualcuno vicino a voi appare ambiguo, disonesto, inaffidabile. Una donna poco sincera, un'amica infedelle, una fiducia male ripagata, donna poco leale e malfidata potrebbe mettervi in difficoltà. Persone poco sincere che vi circondano vi creano problemi e difficoltà. Attenzione alle nuove conoscenze. Prestate attenzione nel maneggiare oggetti di cristallo o particolarmente fragili, potreste avere qualche piccolo dispiacere. Oggi cerca di rilassarti totalmente, non pensare a lavoro. Importanti segreti. Divergenze d'opinioni con il partner. Più pazienza. Vai dal dentista per un controllo è sempre meglio prevenire che non curare. Discreti successi personali. Non cercate altrove quello che avete a portata di mano, coraggio, in fondo i problemi si possono risolvere e avete le soluzioni a portata di mano. C'è qualcuno che vi cercherà presto, avrete mille occasioni poi per chiarire, ma cercate di accoglierlo nella maniera giusta e sensata. Oggi alcune circostanze potrebbero favorire la ripresa di contatti con persone che vi interessano. Sfruttai questa buonare a influenza positiva di Mercurio a vostro favore. Vi sentirete stravagnati e leggeri, è una buona occasione per cambiare look e trovare una nuova immagine per se stessi. Buone occasioni oggi per avviare un piccolo progetto che vi sta a cuore. Favoriti anche gli acquisti di arredo e oggetti per la casa. Occhio. Situazioni significanti si stanno verificando dietro le quinte. Favorite le collaborazioni. Gratificante il rapporto con la persona amata. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. Oggi vi sentirete particolarmente dinamiche e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronti a captare. Chi lavora, lo fa con gioia e guadagna. In campo lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da una persona in cui riponete la vostra stima. Questa lunedì vi vede in una condizione ottimale tanto sul piano fisico che su quello emotivo. L'autunno porta novità entusiasmanti per voi e questo mese di novembre lo testimonia. Nessun pianeta vi rema contro con la sola eccezione di Venere in Vergine. Riusciti ad essere gli animatori di feste, di ritrovi, anche estemporanei, decisi all'ultimo momento tra amici, parenti, conoscenti. Il vostro carattere sempre così semplice, amabile, vi consentirà di essere al centro di scambi, di relazioni, di confidenze. Giove, Urano, il Sole, Marte, tutti amici vostri, rispettivamente in se stile intrigono, un'ottima combina dunque per continuare a divertirvi fino al limite del possibile, viaggiando poi verso casa senza rischi né code. Amore ed Eros. Amore in tutte le salse, vicinissimo o a distanza, l'essenziale è che il cuore batta forte, senza distrarsi mai. Viaggetto incontro all'amato bene, magari per vedersi a metà strada, i cuori solitari, invece, meditano nella Torre d'Avorio, idealizzando il principe o la principessa azzurra intravisti nelle favole dell'infanzia. Sognate, a furia di sognare i sogni diventano realtà. Giove e Saturno vi sorridono. Alcune incertezze o situazioni di sospensione del passato, che gravavano sulla vostra storia d'amore, saranno definitivamente allontanate. Exploit di flerte e di avventure nei nati della terza decade. Tenete sotto controllo i bollenti spiriti. Plutone in splendido aspetto vi riscalda il cuore se siete in coppia e festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 20 di marzo. Lavoro e denaro. Voglia di far nulla, ma se la casa, immersa nel caos dopo aver bigiato per il ponte, reclama qualche faccenda urgente, vi riscuotete dalla pigrizia e cominciate a metterci mano, scoprendo di prenderci gusto cammin facendo. I pianeti in generale se siete creativi, imprenditori, artisti, vi stanno per aprire orizzonti di successo, che neanche riuscite a immaginare. Perché voi appartenete a uno dei segni più liberi e capaci di assumersi rischi per ciò che concerne il lavoro, la volontà di abbracciare una libera professione. In particolare il vostro pianeta governatore, Nettuno, promette un miglioramento che adesso può quasi dirsi inimmaginabile, specie se nascete in marzo. Benessere. Forma fisica così così, se avete maltrattato scarpinando per vari giorni ora le vostre dolci estremità ve la fanno pagare con gli interessi. Provate a calmarli con un bagno emolliente a base di calendula, quindi coccolate li con un massaggio alla menta o al timo, torneranno a sorridere e voi insieme a loro. Denaro. Siete uno dei segni che più si lascia tentare dalla fortuna al gioco. Con Saturno e Giove al vostro fianco la probabilità che riusciate a strappare qualche vincita, specie all'otto, è molto alta. Per lei, lieve malessere da coccolare con il relax, in casa al caldo, con la complicità di un ottimo vim br u con accento circonflesso le, il raffreddore si stronca sul nascere, un grazie al magico ricettario della nonna. Per lui, adorate lo sport ma non è detto che dobbiate esercitarlo in prima persona, le partite di calcio preferite gustarvele comodamente seduti in poltrona, davanti alla tv. Colore delle emozioni, granato. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.